unolingo neanche duolingo la trama del gioco inizia che noi abbiamo perso la streak di fiammettine delle lezioni di spagnolo non abbiamo fatto la nostra lezione di spagnolo ragazzi ma voi direte ma cosa mai potrà succedere ehi è uno sembra che tu abbia perso la lezione di spagnolo eh sono stato occupato puoi lasciarmi da stare mi dispiace di importunarti ma sai hai un goal per imparare beh sei importunente ok sono stanco di questo ci vediamo presto cosa vuol dire la brisa sul personale la brisa sul personale aiuto ma io non posso fare niente cioè non mi fa toccare nulla ok non aprire la porta no non farlo lezioni di spagnolo domicilio domicilio lezione oddio dove siamo la mia testa come sono finito qua quello è doppiato ragazzi ma cosa vogliamo di più ok ci manca un pezzo che ho visto qua no c'è una carta oddio find your lesson in the abyss oddio devo farlo in spagnolo ma io non lo so aiuto allora e incontra e la tua lezione ehm 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 e nel no e nell'abisso nell'abismo e qua penso che io devo mettere è in cui tra te 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 lezione e nell'abisso però lì c'è una carta lì c'è una carta lì c'è una carta lì c'è una carta lo sento camminare qua ok a chiunque trovi questo non ho molto tempo un unolingo l'uccello di unolingo mi ha catturato e ho paura che magari non potrò mai scappare sono passati i giorni da quando sono stato preso e ho provato a essere più intelligente di lui all'inizio pensavo che stavo solo cercando di insegnarmi una nuova lingua ma ora non ne sono così sicuro c'è qualcosa di sinistro che c'è in gioco posso sentirlo nelle mie ossa la lezione dell'uccello la lezione di unolingo è cominciata a diventare incredibilmente difficile come se mi stesse preparando per qualcosa ma per cosa non lo so mi sono rifiutato di di perdere la speranza ho cercato di trovare una una tessera una keycard per uscire nascondendola nella mia cella dove quel cavolo di uccello non può trovarmi ho bisogno di aspettare e trovare il giusto momento per fare la mia mossa quindi per scappare se stai leggendo questo sappi che non ho mollato troverò una via d'uscita non importa cosa ne comporta Jenny ok Jenny questi non si possono aprire ok allora io lo sento zampellare in giro mi metto un'ansia tremenda allora questi per uscini non avevo capito che pensando rifacevamo rumori ok incontra tu le chon e nel abiso ok la stavamo scrivendo giusta la stavamo scrivendo giusta grazie un aiuto del pifero ci hai dato madonna dobbiamo andare pianissimo perché sennò qua prendiamo il recinto pupazzi prendiamo questa è un'altra stanzetta questa è un'altra stanzetta per la gariaz della ossession potina poti potina potina a garata per la garage tipo di là di là per la gariaz Allora, agarada, porre, las garras, di là, si sono. Giusto, eh, schiaccia il pulsante verde, ma allora è stronzo, ok, e tu. Ok, ok, abbiamo la keycard, bene, ora dove dobbiamo andare? Ma va! Nuove lezioni ti aspettano! Ah, finiva così? Ciao! 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 Grazie a tutti